Abano Terme supera addirittura Padova come presenze turistiche in valori assoluti nel 2018 secondo i dati diffusi dall'osservatorio di Confartigianato. Soddisfatto senza cantare vittoria, il primo cittadino che parla di un segnale incoraggiante nei primi tre mesi del 2019 con turisti in crescita del 10%. Per Abano Terme è un risultato molto buono, soprattutto in un anno un po' difficile per il turismo italiano. Credo che sia anche efficace la promozione che è stata fatta nei mercati di lingua tedesca che continueremo anche il prossimo anno e quindi questo è un trend positivo che ci fa ben sperare anche per il proseguo dell'anno. A far la parte del Leone restano gli italiani ma il 40% delle presenze è fatto di stranieri. Molti italiani perché almeno il 58-60% dei turisti sono italiani e il restante 40% è fra tedeschi di lingua tedesca, quindi Germania, Austria, Svizzera, Russia in aumento, Stati Uniti, Francia. Quindi credo che il nostro territorio si conferma un territorio vivace, vitale e che mette al centro l'immagine di una città della salute. E le Olimpiadi Invernali che Cortina e Milano si sono aggiudicate per il 2026 potrebbero rappresentare per l'area una nuova opportunità di sviluppo. Come destinazione possiamo far valere quell'unicum rappresentato dalle terme, vere terme del nostro territorio che hanno delle proprietà non solo curative ma anche di prevenzione che hanno avuto uniche nel loro genere un brevetto europeo.